Noi abbiamo corsi pomeridiani per i ragazzi, partendo dalla prima media fino all'università. Nelle primi due anni, prima e seconda media, non li facciamo studiare, li facciamo utilizzare la lingua. Invece, dalla terza media fino alla quarta superiore, li facciamo seguire un percorso Cambridge, che parte dall'esame CAT e finisce con FIRST-ILS per la preparazione per l'università. Per quanto riguarda l'iscrizione dell'esame... Ciao a tutti, i nostri corsi inizieranno nel mese di ottobre e troverete a breve sul sito i moduli di adesione. Per informazioni, contattatemi alla mail sottoindicata. Grazie. Grazie a tutti.